Avrò modo di spiegare adesso un attimino una serie di questioni riguardanti sia le luminarie che gli eventi. Siamo fiduciosi perché quest'anno il programma è abbastanza ricco e come aveva detto il sindaco abbiamo voluto anche tenere in stretta considerazione la periferia come poc'anzi potrò dire a tutti in conferenza. Noi siamo fiduciosi che tutto riesca entro l'immacolata, ci siamo prefissati che avvenga tutto entro l'immacolata. Ci sono molteplici eventi per i quali il Comune ha garantito l'operazione di suolo pubblico gratuito e l'esenzione al pagamento del canale del monumento patrimoniale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.